Onori ai caduti! 77 anni fa, grazie ai soldati polacchi delle truppe alleate e ai partigiani della Brigata Maiella, Pesaro veniva liberata dall'esercito tedesco in ritirata durante la Seconda Guerra Mondiale. Per ricordare l'anniversario di una data fondamentale per l'intera città, si sono svolte nel pomeriggio di ieri le consuete celebrazioni dislocate sul perimetro del centro storico pesarese. Celebrazioni partite con la deposizione delle corone al Monumento alla Resistenza in piazza Palcone Borsellino e che si sono poi spostate alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo in Largo Mamiani e al Sacrario dei Caduti per la Libertà in piazzale Collenuccio, dove oltre ai saluti e agli interventi delle autorità civili, militari e religiose presenti, si è poi svolto un momento di preghiera in memoria dei caduti. Diversamente da quanto annunciato, assente per problemi personali, la senatrice a vita Liliana Segre. Nel suo discorso, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha ricordato la profonda valenza di questa data e dei valori che essa celebra, per passare poi ad evidenziarne l'attualità collegandosi ai fatti più recenti dal punto di vista nazionale ed internazionale, dalla situazione in Afghanistan fino ai risvolti negativi delle manifestazioni e delle proteste rivolte alla campagna vaccinale e alla lotta contro il Covid. Pesaro è stata forgiata dalla linea gotica e quindi noi qua più che in altre parti del paese sappiamo quanti vite sono state sacrificate per la libertà e la democrazia. La nostra storia, la bellissima storia della nostra città ci deve in qualche modo far capire che anche oggi se non ci sono popolazioni che hanno la consapevolezza di resistere, non si riesce ad ottenere la libertà, l'abbiamo visto in Afghanistan, nonostante le forze alleate se non c'è una consapevolezza forte nella popolazione a resistere poi democrazia e diritti non si affermano. Così come abbiamo visto che il tema dell'accoglienza è in altro modo un tema di grande attualità, così come nel nostro territorio i cittadini delle aree interne hanno accolto le persone sfollate dalla costa, da Pesaro in particolar modo, noi oggi abbiamo un dovere nei confronti di quelle popolazioni che scappano da soprusi, da guerra e da prevaricazioni. Dall'altra queste migliaia di persone hanno perso la vita per la libertà e la democrazia e sentire oggi invocare la dittatura sanitaria significa non conoscere la storia, un vero e proprio insulto nei confronti di coloro che sono battuti davvero per far cadere la dittatura nel nostro paese. Non solo perché le regole che ci siamo date in questo anno e mezzo di pandemia sono regole decise dalla democrazia, dalle istituzioni democratiche, ma perché paragonare ciò che è successo durante il nazismo e il fascismo all'esigenza oggi di liberare gli italiani e il mondo da questo terribile virus è davvero agghiacciante ed è appunto un insulto nei confronti di coloro che davvero si sono battuti per la libertà.